Buongiorno a tutti ragazzi, da Zebra, sono d'accordo con Nati per Vincere. Però aggiungo, e se invece? Ma prima di continuare, mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale e lasciate un bel like. Cosa dice Nati per Vincere? Dice, cara Juventus, c'è un errore di fondo. E quale può essere questo errore di fondo? Che dice Nati per Vincere? Dice, se tu hai messo una squadra intera in vendita e lo hai dichiarato su tutti i giornali, al mondo intero, e quando tu vai a fissare un prezzo su alcuni giocatori, cosa pretendi? Che vengano lì e ti diano quello che tu hai cercato? Lui dice no, giustamente. Perché se le altre società sanno che tu ti vuoi liberare, sbarazzare di quei terminati calciatori, non ti vengono a dare per sulle richieste a 40 milioni? Non te ne vengono a dare. E quindi ti sei messo in difficoltà da solo. E quindi su un discorso di linea generale fatto in questo modo, con Nati per Vincere, sono totalmente d'accordo con lui. Ma io aggiungo anche, e se invece è stato fatto apposta? Cioè, la Juventus fa un discorso su alcuni giocatori, e un discorso su altri giocatori. Cioè, su Chiesa sappiamo tutti ragazzi, è in fase di scadenza, ma è un cosa a parte, un discorso a parte, è in scadenza, è un giocatore che comunque gli è stato proposto un contratto mai in ribarzo, in condizione della Juve, si dice che non fa parte del progetto Juventus, è a parte. E anche se lì, secondo me, poteva essere gestita meglio come situazione, già dall'anno scorso. Ma, se invece, tutti questi esuberi che la Juventus ha, non gli interessa effettivamente guadagnarci chissà quali cifre. Ma, è un messaggio rivolto a tutti, venite e comprateli, prendeteli. Noi li svendiamo. Perché può essere che un discorso che la Juventus fa è non guadagnarci sul cartellino, a noi non interessa, Artur, McKennie, Rugani, non ci interessa sul cartellino, a noi interessa liberarci di loro, ma più che altro a livello di stipendio. Che tu, tra l'ordo e il netto, beh, ragazzi, ci può essere un bel risparmio, tra l'ordo e il netto. Prendi Artur, 5 milioni, ma sono 10, tra l'ordo e il netto. Quindi, capite bene che la Juventus ha bisogno di liberare quel peso, secondo me, a livello di bilancio. Quindi, può essere il discorso che a me non interessa guadagnarci il cartellino, ma ci vado a guadagnare a livello economico, di stipendio. Sommando tutti quei calciatori, a me porta quella cifra al risparmio. Ne vendo, ne mando via dalla Juve, perché non si tratta anche di vendere, secondo me è proprio di mandar via dalla Juve. Ne mando via 5, 6, ne prendo 4, e comunque ci sto risparmiando. Funzionali al progetto, funzionali, perché è importante anche essere funzionali, perché quelli che ci sono non sarebbero funzionali al progetto Juve. li avresti comunque sul gruppone, anche se dovessi mandagli in prestito, prendi un Artur, secondo me, chi si potrebbe mai permettere, comunque sì, per un anno e poi di nuovo, accollarti una parte dello stipendio, il 50%. Ci sono delle dinamiche che alla Juve non interessa più avere. L'importanza è liberarsi a qualsiasi cifra, accetterebbero secondo me a qualsiasi cifra, purché di liberarsi di quegli stipendi, tra il netto e l'ordo. Quindi, nato per vincere, secondo me potrebbe, essere questo anche un ragionamento che la Juventus potrebbe portare avanti. Però, queste sono le mie supposizioni, ma in linea generale, sono d'accordo con te. Ma voi siete d'accordo con i nati per vincere e con me? Fatemi sapere in un commento, in un'iscrizione, e perché no, in un bel like. Ragazzi, ci vediamo alla prossima. Un saluto da Zebra. Ciao. Ciao. Ciao.